Una visita sorpresa in Cisgiordania per il segretario di Stato americano Anthony Blinken, la prima nella zona occupata da Israele dagli attacchi del 7 ottobre. Dopo l'incontro con il presidente Mahmoud Abbas, il capo della diplomazia statunitense ha messo in guardia contro lo sfollamento forzato dei palestinesi dalla striscia di Gaza. Abbas ha denunciato il genocidio compiuto dallo Stato ebraico nella striscia affermando che non si può tacere di fronte alla morte di quasi 10.000 persone a causa della rappresaglia israeliana. Nel corso del faccia a faccia sarebbero stati presi accordi anche sulla necessità di fare di più per proteggere i civili palestinesi a Gaza. Intanto questo lunedì Blinken vedrà ad Ancher alla controparte turca e forse il presidente Erdogan. E mentre la diplomazia cerca una soluzione al conflitto, centinaia di manifestanti hanno protestato per le strade di Ramallah in Cisgiordania per protestare contro il sostegno degli Stati Uniti ad Israele. Grazie. Grazie.